la seconda corsa al Cirigliano di Averse il premio mediterraneo una prova per femmine di quattro anni sono in dodici due file complete mezzo meccanico che prende velocità molto arretrata Vanita Deschall poi sbaglia coinvolgendo anche il numero otto sbaglia anche Brexit par Sagra di rotture Bernardina Ticci è leader su Buferaz poi Brigitte ZS che si ritrae in terza posizione davanti a Birbuna così dopo quattro e cinquecento metri sono in quattro a comandare le operazioni nel primo gruppo inseguono i ritardatari è finita squalificata Bea trenta e mezzo il quarto iniziale ha già tirato i remi in barca Romeo Gallucci in salchi alla favorita Bernardina Ticci seguita da Buferaz che precede Brigitte ZS e Birbuna che muove a largo sul piede dell'uno e sedici seicento iniziali Birbuna prova ad agganciare le prime giro di pista completato in uno e due finito squalificata Vanita Deschall si arriva così al completamento del chilometro che Bernardina passa in uno diciassette e quattro sempre seguita da Buferaz mentre Birbuna perde qualche battuta ma riesce ad accodarsi davanti a Brigitte ZS o almeno ci provo frazione di fronte in quattordici e sei uno e trentadue tre quarti di miglio si distende al meglio Bernardina Ticci Buferaz richiesta ritorna Birbuna ingresso in retta Bernardina Ticci fa passerella mentre Buferaz è avvicinata da Birbuna che nei metri finali la sopravanza quindi uno cinque tre l'arrivo probabile ed ufficioso media che dovrebbe essere di uno e sedici sempre decimo più decimo meno è una media provvisoria quella che vi diamo noi per rendere l'idea ma non è quella effettiva quella ufficiale facile assunto di Bernardina Ticci Quakerjet e Olaz Scuderia Michales Giuseppe Citarella l'ha affidata alle mani esperte per la gioia di zio Antonio di Romeo Gallucci grazie per la gioia di zio Antonio di